WUHU Buongiorno a tutti raga Io sono Stickets e finalmente siamo tornati Con l'album della Panini Premier League 2020 Oggi raga avremo a disposizione ben 10 pacchetti da spacchettare di questa raccolta Ed è un po' raga che non lo portavo E qualcuno me l'ha chiesto su Instagram Ho detto c'è che la riporto Ordiniamo i pacchetti su Amazon E sono arrivati ed eccoceli qua Abbiamo 6 pacchetti di questa confezione E 5 di questa qua Prima di cominciare col video vi chiedo di lasciare un bel like e supporto E iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto Tanto raga cioè io so che a voi non costa nulla iscrivervi Iscrivetevi attivando anche la campanellina Vi ricordo raga l'hashtag salutami Se volete essere salutati nel prossimo video o quello dopo ancora Bando le ciance e io direi subito di cominciare a spacchettare Raga vi chiedo anche di andare a vedere se non ancora l'avete visto L'ultimo video che incomincia la Sticker Cup Con Lele King, Sfumatoso e Andrea Torti Anche se raga non è andata benissimo Andiamo col primo pacchetto Vediamo chi troviamo Speriamo di trovare tutti i top player che ci sono in circolazione Tipo Salah Che ancora raga non l'ho finita onestamente questa raccolta E spero di finirla pian pianino Abbiamo una squadra d'ingresso del Sautetto Abbiamo il Kun Aguero speciale Neves e Rishota Poi abbiamo Tielemans E The Canaries Raga questo qua Chi mi segue dall'inizio l'avrò trovato già qualcosa come un milione di volte Pacchetto successivo Vediamo chi troviamo Abbiamo Gerica Hill Abbiamo sempre una squadra di introduzione che è quella del West Ham Poi abbiamo Buenadia Taylor Perry Giovanissimo raga classe 2001 E Danny Rose Andiamo raga col terzo pacchettino Vediamo chi troviamo sto giro E abbiamo Dele Alli in versione speciale Poi abbiamo Ben Foster Uh 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 Allisoni Il portiere del Liverpool Molto bene Moraes E Gosling Andiamo con Il quarto pack E abbiamo Rui Patricio del Wolverhampton Adama Tra l'ora in versione speciale Raga posso correre come un cane Poi abbiamo Killman Classe 1997 Nato a Londra Redmond E poi abbiamo una speciale Che è la squadra del Citizen Eccola qua Ultimo pacchetto E poi abbiamo il blisterino E abbiamo Sempre del Liverpool Oxlade Chamberlain Poi è sempre una squadra di introduzione del Norwich Poi abbiamo Camarasa Socrates E l'ultima è Oh Quante volte si trova questa Quante volte si trova Oddio trovarle doppie Ora raga Apriamoci questo blisterino Che si può trovare tranquillamente su Amazon Lo ricordo Tipo un prezzo Tranquillissimo Perché alla fine sono sei pacchetti Si fatto a quattro euro Quindi raga Un prezzo Abbordabile a tutti Ecco qua il nostro blister Al prezzo di 3 pound e 99 Che non so quanti sono in euro Onestamente Andiamo a aprire Il primo pacchetto dei sei E vediamo che è bene Abbiamo la maglia del West Ham La maglia del Crystal Palace The Toffees Che è la squadra dell'Everton Poi abbiamo Wilson E Benteche Andiamo con il pacchetto dopo Chi troviamo Abbiamo il capitano Anderson Haller Lo scudettino del Southampton Molto carino Uh Anche il doppio scudetto Che è quello dello Sheffield E poi abbiamo Un giocatore dell'Eister Che è Christian Fuss L'austriaco Vediamo chi troviamo sto giro Raga Per chi ancora non lo sapesse Questo è il primo anno Che la Premier League Fa uscire Cioè la Panini fa uscire qualcosa Della Premier League Prima è sempre stato Tops Che sono gli stessi produttori Di quelli che fanno L'album della Champions League Fraser Speciale Uh Harry Pum 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 Questo è Piontek Kane Raga Questo raga Mi mancava pure Grande Harry Kane Poi abbiamo Tom Davis Un altro Perry Raga L'ho appena trovato A classe 2001 E un altro scudetto Che è molto bene Quello del City Però raga Harry Kane L'Uragano Andiamo raga Con il terzo ultimo pacchetto E abbiamo La maglia del Everton Ashley Young Che ormai è già passato Anche all'Inter Tommy Abram e William Versone doppia The Foxes Poi abbiamo un giocatore In classe 1199 Che è Nelson Che raga Già avevo Raga Penultimo pack Poi passiamo direttamente Saluti Abbiamo un altro Ashley Young Che è il capitano Del Manchester Che è già passato All'Inter Poi Molles Che raga Non so come si pronuncia bene Poi abbiamo Clark Bufal E Cabasele Va bene Cabasele Va bene così Ultimo pacchetto E poi raga Passiamo direttamente Ai saluti Dan 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 Jam Dan 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 Abbiamo Cook Abbiamo una squadra d'introduzione Che è quella di Watford Poi abbiamo Camarasa Icai Gundogan Del City E l'ultima raga È sempre del City Il numero 5 Dove essere Stones Giusto E abbiamo un altro del City Che è Stones Raga Io ora passerei direttamente Ai saluti Raga Con questi due campioni Harry Kane e Allison Uno dei portieri più forti In circolazione in questo momento Insieme a altri Tipo Oblak, Ter Stegen Ancora Neuer E soprattutto Donnarumma Voglio salutare Manuel 1 Vallone Francesco Perez Ali-Bos764 Che anche un Instagram account È andato tutti a seguire Mirko-Magna10 Dennis Mako Mattia Jacovelli-Salvatore Niccolò Luca Petrolati Vincenzo Lamberti Viviana Tarantino Wally Dill King IssamGamer04 E Just Mark, raga Detto questo, raga Se questo video è piaciuto Vi ricordo di lasciare un bel like Supporto E iscriviti al canale Se ancora non l'avete fatto Vi ricordo, raga Che in uno dei prossimi video Ritornerà lo spaccatento Fussball 2019-20 Sperando ancora ritornare Un altro Holland E ora, raga Al prossimo video